Quando si parla di gain ISO non si può non parlare di sensori. Le sensori che affrontiamo oggi sono full frame, APS-C slash super 35 e micro 4 terzi. Sono tutti sensori validi, ognuna caratteristiche diverse. Chiaramente più il sensore piccolo, meno profondità di campo abbiamo. Per un motivo molto semplice. Se abbiamo un obiettivo 50 mm, che come in questo caso abbiamo questa scena qua, su un full frame, avendo un super 35 che è all'incirca la metà di un full frame, avremo meno immagine. Perciò la profondità di campo sarà leggermente maggiore. Su un 4 terzi avremo un sensore ancora più piccolo e la profondità di campo ancora maggiore. Aumentiamo la profondità di campo ma aumentiamo anche la focale. Ovvero l'obiettivo rimane sempre lo stesso, ma va moltiplicato per dei fattori. Nel caso del super 35 è 1.5, nel caso di micro 4 terzi è all'incirca per 2. Avremo per esempio, facciamo un esempio semplice, un 50 mm, un obiettivo 50 mm, il numero della focale che è scritto sopra l'obiettivo è sempre lo standard del full frame. Perciò su un 4 terzi, che all'incirca va fatto per 2, un 50 mm diventa un 100 mm. Perciò se con un 50 mm abbiamo questa scena montato su un full frame, con un 50 mm montato su un micro 4 terzi avremo un 100 mm su full frame. Perciò un'immagine molto più croppata, ritagliata. Questo a grandi linee sono le differenze dei sensori. Ma volevo parlare di ISO e esposizione. Tutti i sensori hanno degli ISO nativi, che vuol dire che a quegli ISO danno il massimo della profondità del colore, il massimo della gamma dinamica. La gamma dinamica sono le sfumature da bianco a nero. Perciò più sfumature abbiamo, migliore sarà l'immagine. Sarà più filmografica, avremo più stop di luce all'interno della nostra immagine. Addirittura certe videocamere, certe mirrorless, certe reflex, lavorano meglio a ISO più alti piuttosto che a ISO bassi. Questo è un semplice test che potete fare voi con la vostra attraffatura per vedere quali sono gli ISO dove lavora meglio la camera. Mettendo la camera davanti a una parete, sarebbe ideale, grigia, o davanti a un cartoncino grigio, e fare le prove mantenendo la stessa esposizione e cambiando gli ISO. Perciò compensando con il tempo o il diaframma. In questo modo potete vedere dove lavora meglio e dove lavora peggio. A livello di grana, dove tira fuori più e meno grana. In questo modo incominciate a conoscere meglio la vostra attraffatura. Comunque sia, non otterrete mai i risultati come li potete ottenere utilizzando gli ISO nativi della camera. Le nuove camere di solito stanno uscendo con due ISO nativi. Per esempio la Blackmagic ha gli ISO nativi a 400 e a 3200. La mia Sony ha gli ISO nativi una a 800, la R2 e la S2 a 1600. E sappiamo che se noi filmiamo a quegli ISO nativi lì, abbiamo la massima qualità della nostra attraffatura. Ma non è sempre un obbligo filmare alla massima qualità della nostra attraffatura. Ogni tanto vogliamo portarci a casa le scene che ci servono. Perciò cosa facciamo? Alziamo gli ISO, abbassiamo gli ISO per esporre la nostra immagine in modo corretto. E non c'è nulla di male in questo. Per come lavoro io in determinate situazioni tendo a tenere gli ISO nativi. Quando posso sotto, non so, su un set di luce controllata, in occasioni che me lo permettono. Perciò gli ISO sono un parametro che possiamo utilizzare per migliorare la nostra immagine? Sì, sicuramente. Specialmente nel reportage, matrimoni, eventi, dobbiamo spesso affiodarci agli ISO se siamo frettolosi e non possiamo rifare una scena diverse volte. Perciò cosa facciamo? Alziamo, abbassiamo gli ISO. Questo è il motivo per cui vi ho detto di fare dei test per vedere in quale ISO lavora meglio la vostra camera. Perché così quando siete in difficoltà di tempo potete selezionare l'ISO migliore a seconda di quello che vi serve. Per esempio, prendiamo le Sony Alpha. Le Sony Alpha sotto il profilo colore Cine 2, Cine 4 è consigliato sottosporre di 0,7 l'esposizione in modo da salvaguardare altre luci. Mentre sempre le Sony Alpha in Log, come poi in realtà un po' tutti i Log, va leggermente sovrasposta. Il grigio medio dovrebbe essere attorno al 35%, vuol dire che dobbiamo sovrasporre leggermente la nostra esposizione per poi riportarla giù in post, per avere più informazioni nelle alte luci. Come funziona la curva logaritmica? Praticamente si alza tutti i neri e ci appiattisce tutte le luci in modo da avere più informazioni nelle ombre, ma anche più informazioni nelle luci. In questo modo noi dovremmo sovrasporre l'immagine, tutti i neri diventeranno grigi e in post-produzione ritiriamo giù l'immagine, in modo che nella parte chiara abbiamo tantissime informazioni. Nei neri anche, vista la camera, ci sembrerà un attimo rumorosa, perché abbiamo tenuto l'esposizione molto alta, ma in realtà il risultato finale è di una ottima qualità. Quali sono le differenze principali di questi sensori? L'abbiamo detto, più è grande il sensore, più ci sarà una profondità di campo maggiore, con la stessa lente, chiaramente. E avremo inquadrata più scena. Più è piccolo il sensore, più la profondità di campo sarà minore e la scena sarà ristetta, croppata, utilizzando la stessa lente. E di solito il sensore più grande, avendo pixel più grandi, ha anche una gamma dinamica migliore. Ma adesso con i nuovi sensori, con i nuovi sensori, le nuove tecnologie, questa differenza si nota sempre, sempre meno. A differenza tra foto e video, in fotografia diamo molta attenzione ai pixel, nei video meno. Per ottenere un 4K abbiamo bisogno di un'incirca di 8 milioni di pixel, mentre in fotografia con 8 milioni di pixel non ce ne facciamo tanto. Possiamo utilizzare il sensore, gli ISO, per aumentare la luminosità, ma sappiamo sempre che andiamo a perdere un po' di qualità. Non è per tutte le camere uguale, per alcune camere reggono molto bene gli alti ISO e altre molte meno. Diciamo che dobbiamo imparare a conoscere la nostra trattatura.